Benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come I bianconeri, con i nuovi acquisti di Maria e Bremer, esordiranno alla stadium affrontando il sassuolo di Dionisi. Grande attesa per l'esordio della nuova Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri affronteranno nella prima giornata di campionato il sassuolo di Dionisi. Il tecnico Juventino sembra intenzionato a schierare due dei nuovi acquisti, di Maria e Bremer. Resta in dubbio invece Costit. Devo ancora decidere tra lui, Meccani e Quadrato, giocheranno due di questi tre, ha ammesso Allegri. È probabile che l'ex Eintracht parta dalla panchina, mentre saranno sicuramente nell'undici titolare Bremer e di Maria. Outrabio, tra l'altro destinato al Manchester United, e Kim per squalifica, fuori per infortunio Scesni, Pogba, Chiesa, Arthur e Caio Jorge, il tecnico bianconero va verso un 4-4-2. La società ha lavorato molto bene e ha sostituito chi è andato via. Lo scorso anno la Juventus ha fatto un'ottima stagione. Lo scorso anno abbiamo fatto 10 punti in meno del Milan e dobbiamo recuperarli, con pazienza e lavoro ci arriveremo. Abbiamo il dovere di tornare a vincere sapendo che lo scorso anno delle squadre hanno fatto meglio di noi. Questo deve essere uno stimolo per noi. Così Max Allegri, tecnico della Juventus, alla vigilia del debutto in campionato contro il Sassuolo. Il mercato? Ci pensa la società. Sono stati sostituiti i giocatori che sono andati via. Non dobbiamo farci distrarre dal mercato, perché domani sarà una partita molto difficile. Noi dovremo fare una grande partita, ha aggiunto. Nel Sassuolo c'era Spadori, al centro di numerose voci di mercato. Dubbio su Pinamonti, arrivato da pochi giorni per sostituire Scamacca. Juventus-Sassuolo, dove vederla in tv.Il match tra Juventus e Sassuolo sarà disponibile in esclusiva su Dazon, niente coesce luiva con Sky. Per poter vedere la partita sarà quindi necessario avere accesso all'app di Dazon, disponibile su Smartf di ultima generazione, su Team Vision, su console Xbox o Playistarion 4.5, Google Chromecast e Amazon Fire Stick. La gara si potrà seguire anche live sul nostro sito notizie.com con aggiornamenti live. Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni.Juventus, 4-3-3, Perin, Danilo, Bonucci, Brenner, De Sciglio, Zaccaria, Locatelli, Mecheni, Quadrato, Vlaovic, Di Maria. Italprese. Allenatore, Allegri.Sassuolo, 4-3-3, Consigli, Muldor, Erlich, Ferrari, Chiracopoulos, Frattesi, Enrique, Torzvedz, Berardi, Pinamonti, Raspadori. Allenatore, Dionisi Arbitro, Rappuano Dirimini.Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.